Ciao a tutti amici e benvenuti in questo nuovo episodio del podcast. Oggi siamo qui con dottor Mattia Pieri. Oggi parliamo di consapevolezza alimentare. Che dici? Alla grande. Vorrei partire da quello che vedo spesso in pratica clinica, ovvero che molto spesso i pazienti credono di avere la giusta consapevolezza alimentare, ma in realtà non l'hanno. Perché poi quando vai chiaramente a indagare su anamnesi, quindi magari su quanto conosci determinati macronutrienti, eccetera, eccetera, non c'è effettivamente questo tipo di consapevolezza. Quindi ti chiedo, dal tuo punto di vista, qual è quella base minima teorica che una persona dovrebbe, con cui dovrebbe istruirsi per avere una buona consapevolezza alimentare? Sì, diciamo che questo è un problema molto comune oggigiorno, perché siamo nell'era dell'informazione, però non siamo mai di fatto stati più ignoranti nella storia, perché sentiamo tutto il contrario di tutto, specialmente nella nutrizione. Quindi mi metto anche nei panni del consumatore medio. È davvero difficile capire dove sta la verità, perché io dico una cosa, un altro ne dice un'altra, c'è adesso chi la spara grossa sulla dieta carnivora, robe varie, insomma, robe folle. Quindi c'è veramente tanto caos. Sicuramente una persona per iniziare a istruirsi e essere minimamente consapevole deve partire da quelle che sono le linee guida della sana alimentazione. Quindi non pensare che siano linee guida fatte da un complotto mondiale per farci avvelenare, eccetera, sono semplicemente delle linee guida che in generale ti fanno un'idea appunto generale di come bisognerebbe mangiare per stare a grandi linee bene. Poi è chiaro che dopo c'è il professionista di riferimento che deve creare un protocollo cucito sulle caratteristiche specifiche in base al caso, ok? Quindi c'è... E anche lì un altro problema, perché puoi trovare il giusto professionista diventa... Non così semplice, visto che, come dicevi tu, si trova un po' tutto il contrario di tutto. È davvero difficile, infatti quello che io consiglio è di aspettare un attimo prima di affidarsi a un professionista, vedere cosa fa, vedere come comunica, vedere cosa dice e vedere se ha del buon senso. Perché, come dicevo l'altro giorno su Instagram, manca proprio il buon senso. Cioè, oggigiorno si sta perdendo quello che è il concetto base di equilibrio. Cioè, c'è la dieta carnivora, iperverticale, carne rossa, carne rossa. Dieta chetogenica, poi c'è la vegana, cioè si perde veramente il senso della misura e si va a estremizzare. Una volta i nostri nonni avevano una cosa molto più equilibrata, mangia di tutto e un po', e non potevi sbagliare. Sicuramente è un consiglio, cioè, non ottimale mangiare di tutto e un po', perché dice tutto e niente, ma sicuramente è meglio mangiare un po' di tutto piuttosto che eliminare categorie in maniera totale da talebani e rendere la dieta come se fosse una religione. E non pensare soprattutto che c'è un complotto globale che ci vogliono avvelenare per zuccheri, prodotti confezionati, industriali. Bisogna partire da quelle che sono le basi del nostro organismo, che cosa vuole il nostro corpo, e capire come darglielo dal punto di vista nutrizionale. Giusto. E non è particolarmente difficile, perché alla base c'è un concetto di energia, un concetto di calorie, quindi tu devi sapere quali sono i tuoi fabbisogni per la fase in cui ti trovi, cioè vuoi dimagrire, vuoi ingrassare, vuoi stabilizzare, eccetera. Poi ci sono le proteine, che sono le fondamenta della nostra salute, quindi devi avere un buon quantitativo proteico, non estremo, quindi non è necessario mangiare sempre robe proteiche, come va di moda adesso con il budino proteico, le barrette, tutto proteico. Non è necessario, però ci devono essere buoni livelli proteici, e poi dal di lì un buon livello di grassi essenziale, quindi non andare mai sotto allo 0,5 grammi chilo di grassi, perché altrimenti arrivano problematiche metaboliche, e poi il resto sono carboidrati. Grassi e carboidrati vanno tenuti nei range in base alle caratteristiche sportive del soggetto, alle caratteristiche digestive, a vari fattori, ma al punto che già facendo così, in un contesto di frutta, verdura, alimenti di stagione, già stiamo facendo l'80% dei risultati. È quello che conta. Ma a tuo livello di macronutrienti dove vedi la falla più grande a livello di consapevolezza? Cioè io per quello che vedo nella pratica clinica, te lo dicevo, spesso non c'è proprio la consapevolezza dell'apporto proteico. Si mangiano veramente poche proteine, in alcuni casi nulle, perché c'è la classica colazione cornetto e biscotti, c'è il pranzo e la pasta, la cena e la pasta, se va bene un filetto. Tu credi sia questa la pecca più grande, la falla più grande a livello alimentare o c'è qualcos'altro? Allora, da una parte non si conoscono i propri fabbisogni e come arrivarci da quei fabbisogni, ma dall'altra non si conoscono neanche le caratteristiche degli alimenti. Tu non sai dove sono le proteine, non sai come sostituire varie fonti proteiche, vegetali o animali, non sai dove sono i carboidrati, che tipo di carboidrati o dove sono i grassi. Cioè non c'è proprio la cultura alimentare. Semplicemente noi abbiamo una routine che abbiamo stabilizzato grazie ai genitori, nonni eccetera, oppure stravolta dal guru di turno, e però semplicemente siamo dei soldati che in maniera automatica mangiano cose e non sanno che cosa si ha realmente nel piatto. Quindi bisogna partire da una consapevolezza alimentare, un'educazione alimentare vera, alla base, dove si ragiona sempre per quello che è il piatto unico, il piatto sano. Quindi sempre una buona quota di proteine, sempre una buona quota di carboidrati e grassi e verdura o frutta di stagione. In questo modo abbiamo tutti gli elementi per il nostro organismo e poi in base alle caratteristiche uniche si vanno a sbilanciare magari più le proteine, più i carboidrati, più i grassi. Però partendo dal piatto unico, che poi sono anche i consigli classici delle linee guida, non si sbaglia dal punto di vista proprio nutrizionale di fabbisogni. Però sicuramente una cosa su cui bisogna stare molto attenti è l'apporto proteico nella giornata, nel singolo pasto, ma nella giornata in generale, e anche l'apporto di fibre e micronutrienti tramite frutta e verdura. Già facendo questo si fa veramente tante. Fabbisogno proteico, tu come linea guida generale per una persona mediamente attiva, quanto consigli? Allora, tendenzialmente più si è sedentari, meno necessità abbiamo di avere proteine. Più ci alleniamo, più creiamo danno muscolare, più dobbiamo alzare il tenore proteico. Ma non deve essere appunto estremo. Quando stiamo su 1,5-1,6 grammi chilo, abbiamo già fatto il grosso. Specialmente poi se non abbiamo fasi di cat, quindi fasi di dimagrimento, eccetera, con questo range proteico giornaliero noi non abbiamo problemi. Però per tante persone è già, o meglio, difficile da raggiungere, mi rendo conto. Sì, perché non hanno un'alimentazione equilibrata, e quindi nel loro contesto fare a pranzo una pasta in bianco è equilibrato. In realtà una pasta in bianco, per quanto possa essere buona, perché è buonissima e poi soprattutto comoda da preparare, manca di fibre, manca di micronutrienti, di antinutrienti, e manca soprattutto di proteine. E questo è un pasto che di per sé non fa ingrassare a livello teorico, ma praticamente fa ingrassare. Perché? Perché è un pasto molto denso di calorie, molto denso appunto di energie in pochi grammi, che al contempo però non danno sazietà. Quindi se noi a parità caloriche aggiungiamo una verdura, una proteina, abbiamo un volume maggiore di cibo, ci sazziamo di più e riusciamo ad arrivare con più facilità al pasto successivo, senza spiluccare, smangiucchiare, eccetera. Quindi anche qui la densità energetica di ciò che mangiamo è molto importante per appunto un discorso di aderenza al piano alimentare. Ma qui come consiglio da dare alle persone per raggiungere una buona quota proteica, tu cosa daresti? Cioè banalmente il mangia un po' di proteina ad ogni pasto può essere sufficiente? Sì, già così difficilmente vai sotto. Quindi se tu fai già 3-4 pasti al giorno e sai che in ogni pasto ci deve essere una minima quota proteica, tu già difficilmente sbagli. Però è chiaro che se una persona come me, che sono 94 kg, ho un fabbisogno proteico importante, io devo quantificarlo seriamente e devo magari anche utilizzare le proteine in polvere per facilitarmi a raggiungere quel livello. Quindi anche qui le proteine in polvere sono un ottimo integratore da utilizzare per aiutarci nell'arrivare alla quota proteica giornaliera senza eccedere con le calorie, alzare i troppi grassi, eccetera. Perché comunque sono un prodotto a cui hanno tolto la parte glucidica, la parte lipidica, gli hanno tolto l'acqua e hanno tenuto praticamente soltanto la fonte proteica. Quindi è un integratore estremamente molto versatile che ci può aiutare. Ma non deve essere la scusa del mangio la pasta in bianco e poi mi faccio lo shaker. Cioè è un aiuto, è un integratore, non un pasto sostituito. Quindi diciamo la classica persona mediamente attiva o anche sedentaria, ha poco senso utilizzarlo? No, ha senso per una questione di praticità o per quando appunto vede che non riesce ad arrivare ai giusti fabbisogni. Quindi non so, sei fuori perché hai mangiato in autogrill o hai mangiato molto a livello calorico, eccetera, lo spuntino magari non te lo fai con delle noci o frutto, eccetera. Ti fai uno shaker proteico, così hai raggiunto la tua quota proteica giornaliera, bene o male un minimo di sazietà te lo danno e quindi riesci ad arrivare magari a cena. Lì però devi avere già un buon livello di consapevolezza, di tracciamento anche quantitativo abbastanza a grandi linee. Sì, diciamo che noi italiani siamo bravissimi sul discorso della qualità a grandi linee. Quindi prendiamo l'olio particolare, esatto, cioè prendiamo magari il parmigiano, delle vacche di montagna stagionato 24 mesi, eccetera, poi ci scordiamo che questi alimenti hanno delle calorie, calorie spesso rilevanti e quindi noi dobbiamo imparare ad avere una mentalità sia qualitativa, fondamentale, cioè quindi dobbiamo mantenere alta la cultura del buon cibo italiano, ma dall'altra parte dobbiamo avere una grossa mentalità quantitativa e uno strumento che ci può aiutare specialmente all'inizio di un percorso sono le app Quanta Calorie. Le app Quanta Calorie sono degli strumenti digitali di grandissimo valore perché in tempo reale ti fanno capire quanto e come stai mangiando e o col tuo buon senso o guardando le linee guida o ancora meglio facendoti aiutare da un professionista vedi come è strutturata la dieta e cosa devi modificare. Una volta andavi da nutrizionista, gli dicevi cosa mangiavi, facevi un diario alimentare scritto con carta e penna e lui faceva manualmente questo calcolo e ti diceva lui che cosa fare. Oggi invece abbiamo questo strumento di grandissima consapevolezza che ci permette di quantificare e capire che cosa stiamo facendo perché dicevamo appunto che abbiamo creato delle routine non in maniera consapevole, razionale, non abbiamo scelto noi la nostra routine, siamo frutto dell'ambiente che ci ha... Cultura, società. Esatto. Quindi oggi vedendo che ci sono dei problemi fisici, vedendo che abbiamo dei problemi di salute, vedendo che abbiamo la pancetta, vedendo che non riusciamo a mettere su massa muscolare, dobbiamo fare un passo indietro e dire ok, cosa stiamo sbagliando, cos'è che sto facendo col pilota automatico che non mi sta portando il risultato. Prendi consapevolezza con, a per conto calorie, un anello per vedere quanto e come dormi, i passi, quanti passi fai durante la giornata, com'è strutturato il tuo stile di vita, cioè prendi una fotografia di chi sei tu e capisci lì quali sono gli step necessari per cambiare. Ma questo vale in qualsiasi processo di cambiamento, lavorativo, sociale, con le reazioni, cioè fai un passo indietro, guardi la tua vita da una prospettiva diversa e inizi a capire quelli che sono gli step necessari per fare il cambiamento che stai cercando. Se lì la parola chiave, come hai detto tu, sicuramente la cultura, la consapevolezza, però ti chiedo, secondo te, è un qualcosa che tutti dovrebbero acquisire, diciamo, in senso discendente, nel senso tutti noi dovremmo in qualche modo formarci, informarci, oppure è qualcosa che dovrebbe esserci più divulgazione, formazione, anche invece in senso ascendente, quindi da professionisti, medici, nutrizionisti, come la vedi la bilancia tu? Da entrambe le parti, nel senso che c'è il professionista che deve istruire, deve fare una formazione, deve fare l'educazione. E deve in primis istruirsi lui. Esatto, e questo è un grosso problema del settore della nutrizione. Perché? Perché tu vai da un nutrizionista, lui non ti fa una cultura alimentare, non ti fa della formazione, non ti educa realmente, ti dà una dieta da seguire, ti dà un foglio che tu appendi nel frigor, e devi seguire le grammature. Dal momento che non segui le grammature, prendi le cazziate dal nutrizionista, quindi tu devi essere un soldato che esegui gli ordini e testa bassa ottieni quel compito. E non hai imparato nulla. Non hai imparato nulla, magari hai ottenuto un risultato, ma non sai come puoi mantenerlo, non è sostenibile nel tempo, quindi non hai fatto un vero cambiamento nel profondo. Quindi hai semplicemente forzato la mano con un po' di motivazione per cambiare in acuto. Però la battaglia è sul lungo periodo, noi dobbiamo creare delle persone che sono sane per tutto il resto della loro vita e che tramandano quelle informazioni alle generazioni future. Quindi la famosa cultura comunativa tipica dell'homo sapiens. Quindi è questa la cosa più importante, conoscere e tramandare. Quindi secondo me il professionista della salute, in generale nutrizione, allenamento, fisioterapia, deve essere colui che dà una reale educazione profonda per cambiare realmente. Questo è quello che secondo me è la visione del nutrizionista. Poi dall'altra parte ci deve essere l'utente medio che si deve mettere nelle condizioni di dover imparare, di capire, perché non è più pensabile il fatto di andare al nutrizionista, farsi fare la dieta e finisce lì, la devo seguire. Deve essere lui il primo a essere curioso, a voler imparare, a studiare, a formarsi, perché abbiamo questa cosa del finita la scuola, non imparo più niente. No, c'è una crescita personale continua, ma qui parliamo di salute ed è una cosa che non è impensabile non ragionare, non vederla come unico o quasi obiettivo di vita, perché abbiamo un solo corpo e lo dobbiamo tenere molto bene. Ma questa cosa della crescita personale, della formazione costante, si deve traslare in tutto il resto, nelle nostre capacità motorie, quindi come fare bene i movimenti, nelle nostre capacità finanziarie, ci hanno mai insegnato a risparmiare, a investire, a gestire i nostri soldi, a gestire il lavoro, le persone, le relazioni sociali, quindi l'intelligenza emotiva. Cioè purtroppo la scuola, la società di oggi, ci dà una base che per il mondo attuale non è sufficiente. Quindi noi dobbiamo essere degli individui, delle persone intelligenti, con un buon senso critico, che iniziano ad agire per fare un po' di cambiamenti in più ambiti della vita, perché se c'è salute va bene, ma se non c'è una parte finanziaria anche la salute viene a mancare e così tutte le aree si vanno a contaminare, quindi tu devi essere un individuo che sa fare bene i movimenti, è sano, fa una buona prevenzione, ha una buona intelligenza emotiva, una buona intelligenza finanziaria e deve abbracciare la cresta personale costante, continua, non c'è mai un fine, perché in natura o migliori o peggiori, non c'è il mantenimento, quindi o siamo impegnati a nascere o siamo impegnati a morire. Giusto. Ma cosa ne pensi tu del discorso del dare l'esempio a livello di noi professionisti, nel senso sicuramente manca una parte proprio di formazione, quindi noi professionisti magari spesso troviamo anche il classico posto fisso, magari il lavoro in ospedale, il lavoro da qualche parte, smettiamo di formarci, però manca secondo me anche tanto l'applicazione pratica di ciò che studiamo nella nostra vita di tutti i giorni da trasferire poi al paziente, quindi tu credi che praticare in prima persona, quindi dare anche l'esempio con le nostre abitudini sia qualcosa di positivo e che tutti i professionisti dovrebbero perseguire in qualche modo? Per me un professionista deve partire da lì, cioè un professionista che non ha abbracciato lui in primis la cresta personale, il miglioramento costante, la salute a 360 gradi non potrà mai essere un buon professionista, magari ne sa tantissimo a livello teorico, ma finisce lì la parte teorica perché poi se tu non dai il buon esempio, non fai vedere che sei tu il primo a prendere quei consigli e a metterli in pratica, poi tutto perde di significato perché ad esempio vedo su TikTok professionisti che sono in sovrappeso o addirittura fortemente obesi che dicono agli altri come dimagrire, come superare le difficoltà, quando loro sono i primi a non esserci riusciti, quindi per me anche un psicologo non può semplicemente studiare per fare lo psicologo, deve essere una persona che ha fatto delle scelte di vita, ha affrontato delle sfide importanti, ha subito dei cigni neri e ne è uscito vincente, cioè purtroppo oggi si mette tutto sul piano teorico, ma molte volte il semplice dare un buon consiglio, dare il buon esempio, far vedere cosa si sta facendo è molto più impattante rispetto al consiglio a parole e questo vale specialmente per i genitori, perché molte volte si pensa che il genitore deve stare lì a ragionare, a fargli il discorso al figlio, eccetera, no, tu che tipo di genitore sei, che tipo di persona sei, cresciamo per imitazione, quindi, esatto, prima tu crei un individuo di valore, prima tu diventi un individuo di valore e poi puoi generare altri individui di valore, questo secondo me è l'obiettivo. Sì, secondo me lì il discorso di dare l'esempio è molto colma il gap tra, come dicevi tu, banalmente ti do una dieta, la segui come soldatino e ok, ottieni il risultato in breve termine, nel poi riuscire a installare nel paziente un tipo di cultura di esempio, di ispirazione che lo aiuti nel lungo termine, no? Manendo nell'ambito un po' di essere noi pazienti zero di noi stessi, quindi riuscire a dare l'esempio per poi ottenere un cambiamento o meglio, far ottenere un cambiamento nel lungo termine nei nostri pazienti, quali credi che siano altri ingredienti fondamentali al di là chiaramente dell'aspetto alimentare, quindi della consapevolezza alimentare per instillare appunto un reale cambiamento nelle persone, quindi che può essere legato anche al movimento, quindi nel riuscire a mantenere il risultato che sono quegli altri ingredienti che tu insegni nei tuoi percorsi che ti senti di consigliare alle persone? Sì, allora questo qui è detto una cosa molto intelligente, mi hai fatto una bella domanda, più che altro perché si sta dando troppo valore alla nutrizione quando la salute e la longevità passa da una multifattorialità di elementi, cioè quindi dobbiamo pensare che la longevità e in particolare la vitalità è un insieme di ingredienti che devono essere sinergici tra loro, quindi abbiamo nutrizione, abbiamo allenamento, abbiamo movimento, abbiamo l'igiene del sonno, la gestione dello stress, la gestione quindi della parte emotiva, sociale, abbiamo la gestione del tempo, cioè ci sono tante cose che noi dobbiamo abbracciare per essere degli individui sani a 360 gradi, perché purtroppo molte persone si focalizzano totalmente sulla nutrizione e poi non si allenano, si focalizzano totalmente su questi strumenti per calcolare il sonno, guardano ogni dettaglio e poi non si allenano, non mangiano bene, magari utilizzano alcolici, quindi sono strumenti che su di loro non hanno minimamente senso di esistere, quindi bisogna abbracciare la visione in modo molto olistico, quindi abbiamo nutrizione, allenamento, movimento, gestione dello stress, ingegno del sonno, eccetera, e il professionista di riferimento deve essere quello che bilancia queste aree, perché poi la cosa più interessante è che se si ha una visione olistica, quindi si fa un vero percorso di crescita personale, si riesce da una parte a ottimizzare la nutrizione, quindi non bisogna diventare maniaci della nutrizione, dall'altra parte si ottimizza l'alleamento e movimento e insieme si compensano, cioè quindi se tu con la nutrizione non vai benissimo, c'è l'alleamento che ti tiene su, al contrario, hai un'alimentazione perfetta perché sei una persona che è molto ligia con la dieta, l'alleamento, anche se non l'ha fatto al 100%, riesce ad avere degli adattamenti buoni perché c'è la componente nutrizionale che è perfetta o al contempo dieta e allenamento non vanno benissimo ma c'è il sonno che è perfetto e quindi hai una capacità di recupero incredibile, perché poi molte volte appunto vedi degli atleti che fanno dieta perfetta, l'alleamento perfetto o dormono bene poi però hanno una gestione delle emozioni, dello stress non ottimale, una sfera sociale non appagante eccetera e quindi a livello mentale non sono sani e il corpo e la mente devono essere un tutu, non devono essere in sinergia perché tu puoi tenere il corpo perfetto ma se non è la mente che gira bene poi nel lungo periodo anche il corpo subirà dei danni così come anche la mente, cioè come anche la mente, cioè per essere sana, avere una mente sana deve avere un corpo sano, quindi le due cose si devono unire e bisogna uscire dallo stereotipo dell'ad esempio il palestrato, tutto muscoli e zero cervello perché si è visto che l'allenamento riesce a dare una buona neuroplasticità a livello celebrale e se abbiniamo tutto questo sul lungo periodo in maniera equilibrata riusciamo a raggiungere il nostro vero potenziale come individui. Sì, questo a livello ad esempio se prendiamo Elite sicuramente è spesso l'anello mancante tra un ottimo professionista, ottimo atleta è un atleta Elite che riesce poi a fare il salto perché magari lì curi ogni aspetto e non solo la tecnica l'allenamento e l'alimentazione quindi c'è un però questo traslato poi anche alla persona media comune quindi non di certo un atleta professionista l'altro giorno ero al Calemano a questo evento di festival e mi sono accorto lì proprio di questa cosa cioè che c'erano tantissime persone magari iper focalizzate sulla terapia magica la vibroterapia piuttosto che l'alimentazione solo di un certo tipo però poi non avevano tutti gli altri tasselli di uno stile di vita ottimale quindi magari solo una forma di attività come magari solo lo yoga solo il pilates che per quanto ottime attività diciamo non ti fanno non ti danno un benessere a 360 gradi in termini di stimoli per il corpo così come mancavano poi tutti gli altri aspetti dello stile di vita ed effettivamente ti accorgi come poi queste persone sì fanno determinate cose ok ma nel complesso non sono poi così in forma come potrebbero essere quindi dobbiamo secondo me sempre vedere un po' immaginandoci classico grafico a pentagono esagono vederlo un po' non arrivare in ogni angolo perfetto però magari essere un po' più stretti ma bilanciati cioè non avere dei picchi sì ma questo qui è tipico dell'essere umano cioè questi qui sono scorciatoi mentali nel senso che è più facile trovare il colpevole che iniziare ad analizzare meglio la vita a 360 gradi quindi io vedo i carboidrati come nemico vedo i prodotti industriali come nemico li elimino non penso più a niente perché quello che sto facendo è perfetto perché ho sconfitto il nemico allo stesso tempo trovo l'attività miracolosa perché riduce ogni male e hai finito cioè non hai la curiosità di esplorare capire cosa puoi ottimare eccetera hai trovato la tua religione esposi quella con una fede certa e il problema è che la religione è un elemento che non si mette mai in discussione la ricerca invece è un qualcosa di mutevole che cambia e si mette costantemente in discussione da qui il gioco cioè noi dobbiamo essere degli individui che si mettono in costante discussione ed è la cosa più difficile perché ogni volta devi andare contro te stesso molte volte quindi devi essere incoerente con te stesso quindi molte volte ci dicono ah ma devi essere coerente con quello che dici con ciò che fai eccetera ma contro il famoso bias della coerenza esatto noi dobbiamo essere incoerenti con noi stessi perché se siamo incoerenti c'è un'evoluzione andiamo a migliorare costantemente ed è questo una grossa pecca delle generazioni passate ovvero che avevano creato la loro identità avevano creato il loro io a 30 anni a 25 anni e sono rimasti lì se io penso a mio nonno a 35-40 anni è lo stesso di oggi che ne ha 90 in realtà come il tempo passa anche noi dobbiamo cambiare dobbiamo migliorarci e adattarci in base a ciò che la vita ci dà è questo secondo me la chiave per vivere una vita consapevole e cosciente con un buon senso critico non sposare quindi solide verità anche perché poi anche laddove ci buttiamo su una solida verità per così dire in realtà puoi abbracciare tutto il resto ci può dare magari anche degli effetti benefici aggiuntivi su quella nostra verità cioè seguo solo l'alimentazione di un certo tipo curo solo il sonno ma mi dimentico di tutto il resto in realtà se faccio tutto il resto vado a migliorare anche con la cosa su cui mi sto iper focalizzando quindi è sempre una visione olistica da abbracciare in questi termini quindi in tutto questo diciamo puzzle dello stile di vita se tu dovessi dire insieme all'alimentazione insieme al sonno insieme all'allenamento una proporzione di come bilanceresti tutto il tuo stile di vita sarebbe perfetto o meglio il tuo quello di una persona media che può ascoltarci sarebbe tendenzialmente 30 30 30 ci aggiungi qualcosa per me ogni cosa ha la sua importanza cioè non c'è un meglio o un peggio cioè non c'è è meglio la nutrizione l'allenamento 60 40 per me ogni cosa deve essere fatta in maniera ottimale o sufficientemente decente ok e soprattutto personalizzata sui nuovi sì ecco una cosa molto importante le linee guida ci danno appunto una linea guida generale ma poi col professionista devi individuare le tue carenze le tue problematiche cucire la dieta mettela sulle tue caratteristiche dinamiche nel tempo perché oggi magari lavori poi magari studi poi magari cambi lavoro fai dei turni può cambiare veramente tanto la vita specialmente poi nei momenti di difficoltà è lì che serve il professionista e qui lo dico perché molte volte quando si vive un momento difficile si cambia lavoro c'è stress c'è un problema anche di salute eccetera le persone si proteggono e non fanno nulla non agiscono non vogliono migliorare cambiare perché dicono no devo risolvere sta cosa ma quella cosa che sia fisica o sociale eccetera la risolvi ottimizzando la tua salute la tua salute mentale la tua salute fisica quindi proprio in quei momenti lì devi avere un professionista di riferimento che ti sappia accompagnare nel tuo percorso quindi c'è una linea guida per stare bene a 360 gradi in maniera generale poi il professionista è quello che cucisce su di te la programmazione e la rende dinamica nel tempo in relazione a ciò che ti accade quindi la cosa più importante tra un professionista e il paziente e la persona è la comunicazione sono i feedback costanti perché poi la programmazione deve essere modificata costantemente ed è lì che sta il vero valore del professionista non cambiare le noci con le mandorle o no latte di soia latte normale cioè un nutrizionista deve capire come cambiare a livello macro e specifico la programmazione in linea con le esigenze della persona è troppo facile fare una consulenza dire sì dai ti va la mandorla te lo cambio ti cambia un po' il timing dei pasti cioè lì si sta semplicemente cambiando un fogliettino ma non si sta facendo un vero cambiamento nel profondo cosa ne pensi tu invece del discorso degli stimoli nel senso ne hai parlato tu anche in un video ne parlo spesso anch'io di quanto sia importante dare degli stimoli giusti a noi stessi in termini proprio di obiettivi in termini di ambizione in termini di utilità all'interno di una comunità perché poi spesso mi rendo conto che molte scelte che le persone normalmente fanno non sono magari dettate da o meglio sì sicuramente c'è una scarsa consapevolezza ma c'è anche una scarsa ricerca di stimoli buoni stimoli positivi stimoli ottimali rispetto a degli stimoli spazzatura che quindi magari ci portano un po' fuori pista perché magari vai a ricercare la coccola nel cibo vai a ricercare la coccola nel divano nel film e quindi magari preferisci delle cose che nel breve termine ti danno chiaramente una dopamina un po' meno di qualità rispetto invece a fare delle cose più utili nel lungo termine quindi c'è tanto secondo me anche come dicevi tu l'aspetto degli stimoli quindi in questi termini com'è la tua allora secondo me dal momento che una persona capisce che deve migliorare se stessa per sempre fino all'ultimo dei suoi giorni capisce anche che non può perdere tempo nel iper stimolarsi verso qualcosa che non gli dà nulla indietro se non una piccola scarica di gratificazione momentanea che man mano che va avanti quella scarica finisce di potenza e arriva quindi la tolleranza al piacere quindi il gioco è rinunciare oggi il biscotto per avere una ricompensa maggiore domani ovviamente tutto in un equilibrio perché chiaramente Netflix il cellulare il computer sono tutte robe che ti danno degli stimoli sterili stimoli artificiali però non sono per forza di cose da eliminare completamente sono comunque sia da inserire perché comunque hanno una certa comodità ma devono essere cioè un accessorio una piccola parte della nostra giornata e non deve essere sempre presente per dire quanti alla sera ogni singola sera guardano due o tre ore di tv è pazzesco ma quante sono due o tre ore di tv in tutta la vita e poi che tipo di tv perché un conto è non so guardi una serie tv particolare che ti appassiona un documentario qualcosa che ti dà veramente qualcosa indietro come magari questo podcast eccetera allora lì sì che è migliore con uno strumento digitale eccetera ma quando sei sempre lì a cercare la nuova serie a stare mezz'ora a guardare a cercare la serie tv migliore sì 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 lì finisce su Netflix in stai mezz'ora sì cioè lì è tempo buttato ma è ancora più grave del tempo buttato che tu vedi dici vabbè ho perso mezz'ora no tu hai perso attenzione hai perso stimoli hai perso un focus che poteva andare su un'altra parte quindi dal momento che tu sai che tu per essere un individuo di valore devi essere un individuo che è sano a 360 gradi devi coltivare una crescita personale costante poi non andrai a permettere a te stesso di perdere così tanto tempo in queste cose chiaro sì sono d'accordo lì il discorso secondo me è che chiaramente come esseri umani preferiamo sempre il piacere immediato rispetto al saper aspettare oggi per ottenere un beneficio a lungo termine io una piccola regola che mi sono messo è quella di anche se devo utilizzare se so di dover utilizzare o voglio utilizzare una fonte di dopamina spazzatura che può essere un film un social un qualcosa metterci sempre a monte uno sforzo fisico prima cioè in modo da calibrare ricalibrare un po' questi meccanismi di piacere di adattamento no? tu come lo vedi questo? quindi magari so che devo fare che mi voglio concedere una coccola magari prima abitua il mio corpo a riceverla solo in seguito ad uno sforzo in modo che poi anche nel futuro sforzo che può essere banalmente fare mille passi può essere banalmente fare un workout cose di questo tipo allora io non la vedrei come premio cioè nel senso non vedrei il guardo un film perché me lo sono meritato perché è il mio premio la mia coccola io semplicemente vivo la vita in maniera equilibrata so che mi alleno in maniera frequente so che faccio le mie letture so che faccio le mie robe poi c'è il periodo dove mi voglio guardare la mia serie tv dove non leggo non faccio nient'altro che guardarmi il trono di spade va benissimo perché è una cosa che ti appassiona ti diverte ti dà comunque sia degli stimoli perché comunque sia ti dà uno stimolo positivo perché è la tua serie tv preferita ti piace e lì non la vedo come una sorta di me lo sono meritato o il premio come non so faccio la dieta perfetta così mi merito la pizza cioè la pizza te la merita a prescindere perché sei un individuo che è sano fa le cose e non è che devi chiedere il permesso a qualcuno quindi dal momento che uno abbraccia uno stile di vita equilibrato nel complesso poi non è la settimana o il mese o l'anno dove magari ha veramente un disagio particolare perché magari ti metti non so io ho avuto nel 2021 dove ho ristrutturato tutta la casa con i bonus è partita la guerra in Ucraina è un casino io l'ho avuto un anno veramente tosto dove stavo in un monolocale proprio orribile è stato uno degli inverni più brutti della mia vita e lì ho tirato i remi in barca sono corso ai ripari e facevo del mio meglio per stare in salute quindi cercavo di dormire bene cercavo comunque di allenarmi cercavo di mangiare decentemente ma quando sei in quel caos la pizza in più ci sta il cellulare in più ci sta cioè quindi devi vedere anche il momento in cui ti trovi e devi capire come gestire la situazione nel migliore dei modi per non ripartire da meno da meno 10 certo ma a partire da dove avevi mollato e qui ritorna il discorso della consapevolezza della cultura io proprio stamattina ti dicevo stavo mandando una mail alla newsletter e l'ho intitolata va bene così a volte riferito al fatto che ero in questi giorni al festival i miei punteggi del sonno sono drasticamente calati cioè li ho praticamente dimezzati ma perché ho fatto più tardi mi sono concesso delle cose in più e dicevo nella newsletter a volte va bene così a patto che tu abbia quella consapevolezza di sapere quando quella volta va bene perché poi le persone rischiano di avere di base già uno stile di vita non ottimale in più raccontarsi del va bene così che ci sta come ragionamento però devi anche avere la consapevolezza di farti un minimo di autocritica e dire effettivamente posso permettermelo o non posso permetterlo certo il famoso inizio da settembre di domani rimandare eccetera eccetera oppure va bene così per oggi no devi avere coscienza di ciò che sei cosa hai fatto negli anni e di cosa effettivamente ti puoi permettere un po' anche a livello finanziario di sapere cosa puoi permetterti non permetterti essere razionale con le scelte che fai e qui hai detto una cosa molto intelligente ovvero che molte volte le persone si focalizzano su questi strumenti non li sfruttano ma diventano loro stesse delle vittime perché? perché si mettono in una condizione dove devono avere tutti quei parametri sempre fissi devono avere quel conteggio calorico preciso devono fare quei passi quindi si ossessionano sui numeri e quei numeri però dopo un po' diventano sterili perché perdono di significato questi sono degli strumenti per essere consapevoli di quello che si deve fare come programmare la propria routine per arrivare a un certo punto dove nella maggior parte del tempo si tolgono perché ad esempio non voglio stare a vita con un anello che mi dà il punteggio io ogni giorno guardo quanto ho il punteggio perché poi perdi attenzione ti focalizzi su un punteggio cioè io devo avere un qualcosa che è automatizzato che mi porta un risultato cioè il bello di avere una routine vincente è che senza fare troppi sforzi tu hai un risultato straordinario come una persona che non ha una routine vincente ottiene un risultato mediocre o sotto quando hai una routine vincente ottimizzi e migliori in maniera automatica quindi non fai uno sforzo e il bello che poi quindi la salute e il benessere diventa una parte accessoria alla vita quindi tu ti puoi consolidare e focalizzare sulla relazione sociale sul lavoro sul crescere del valore finanziario eccetera l'errore quindi è verticalizzarsi troppo sulla salute fare uno sforzo cognitivo per restare nel processo ma quando c'è uno sforzo cognitivo il cervello essendo pigro tende a fare un passo indietro e o crea delle scorciatoie quindi crea la routine vincente o dall'altra parte ti fa mollare e ti ancora la routine passata che sarà sempre lì presente quindi secondo me questo è il gioco avere degli strumenti di educazione per poi fare un passo indietro e smettere di utilizzarli ad esempio non utilizzo più l'app Conta Calorie perché so a livello macro cosa devo fare per la mia fase di bulk per la mia norma per il mio cut e so che non utilizzare questo strumento mi dà un po' di svantaggi perché occhio anche cioè puoi essere bravo a quantificare quanto vuoi ma occhio farei sempre degli errori però so che sarò con dei risultati un po' meno soddisfacenti ma avrò meno tempo meno focus su un'applicazione e lo posso focalizzare magari su altri aspetti più rilevanti della mia vita al contrario una persona che fa della sua vita il bodybuilding magari analizzare meglio questi dati può essere una cosa intelligente insomma ognuno ha il suo percorso però il gioco è creare la propria routine vigente per me è questo lì dipende anche molto dagli obiettivi che ti poni cioè se il tuo obiettivo è la salute nel lungo termine per la vita è chiaro che viene un po' meno l'essere maniacali sul singolo giorno sulla singola settimana perché il gioco è nel tempo io sono abbastanza dell'idea voler rendere le abitudini il più funzionali possibile alla vita nel senso che ne so leggi un libro non leggerlo tanto per leggere magari leggi qualcosa che ti appassiona che ti può dare un ritorno sull'investimento di tempo in questo caso quindi rendere il più possibile le tue abitudini quindi le tue pratiche le tue routine funzionali in termini di poi vita quindi di saperle poi esprimere all'interno della vita sì sì ma il gioco è valutare il tutto per far crescere degli asset cioè degli asset che sono degli strumenti che ti danno sempre qualcosa indietro quindi metti il paragone finanziario è scoperta metti a rendita le tue conoscenze metti a rendita il tuo sapere e quello è un asset che rimane inviolabile cioè nessuno te lo può mai prendere eccetera appunto problematiche neurodegenerative eccetera ma il punto è che migliorare se stessi migliorare la propria cultura è un vero e proprio asset come una casa come un strumento finanziario perché è quel qualcosa che ti fa prendere delle scelte più intelligenti ti fa fare meno errori ti fa vivere in maniera più qualitativa e ti fa tramandare quelle informazioni alle generazioni future quindi hanno una vita e partono da una base migliore perché oggi noi stiamo parlando di cambiare una routine che è molto difficile cioè non è uno scherzo passare dal fumare bere alcol cattiva alimentazione no sonno al cerco di allenarmi mangiare bene cioè per noi magari è naturale ma per una persona che proprio era di un altro pianeta è un bel inizio cioè un bello sforzo ma immagina un ragazzino che in maniera naturale ha già queste cose non ci devi neanche pensare è già in automatico con un buon fisico con una buona salute eccetera e si focalizza su altro magari acquisire delle competenze per il lavoro che vuole fare ingegneria mi dici quello che è è questo che è il gioco e la cultura è il nostro vero asset il punto è che siamo abituati a vedere asset finanziari e non pensiamo che in realtà il vero asset che ci dà veramente di più di tutti è la conoscenza se non c'è conoscenza non c'è una scelta chiaro sono d'accordo e secondo me il bello di questo è anche che se dall'oggi al domani tutto dovesse crollare tu non riparti da zero ma parti già con una buona base perché se sei una persona in forma hai acquisito determinate conoscenze hai determinati comportamenti anche a livello relazionale umano sei già uno step successivo anche se perdi il lavoro perdi la casa perdi tutto hai già degli asset che ti permettono di ripartire in maniera più facile più semplice dopo bisogna anche coltivare non soltanto la salute fisica ma anche la salute mentale quindi avere un mindset dinamico quindi perdi il lavoro ho un problema di salute non crollo completamente e anzi inizio sono proattivo nel uscire da quella condizione guardo dove sono quali sono gli strumenti che ho io ho pazienti che sono bravissimi in questo che hanno avuto sfighe incredibili altri pazienti che ha per una mappatura dei nei non è andata bene sono andati giù di testa altri pazienti per un'ecografia con qualche sospetto sono andati giù di testa altri con un tumore al terzo stadio hanno preso la loro vita in mano hanno iniziato a mangiare bene allenamento focus e sono migliorati cioè bisogna anche poi capire come si affronta la giornata come si affrontano le sfide che la vita ci pone davanti perché molte volte la differenza è tutta lì cioè finché si va tutto liscio bello facile agio ma quando arriva un cigno nero e ci piglia in faccia è lì che capisci quanto la routine è profonda e che tipo di mindset hai per le sfide e se tu però non hai un mindset dinamico che supera quelle sfide sarai sempre una persona fragile che subirà gli eventi e non ne sarà padrone faccio l'ultimissima domanda poi ti anzi scappiamo a pranzare come vedi tu il futuro della salute in Italia sia in termini o meglio anche in realtà poi a livello globale sia in termini di consapevolezza personale sia in termini quindi a livello di popolazione sia in termini poi anche di come pensi si evolverà a livello di monitoraggio dati strumenti tecnologici intelligenze artificiali qual è la tua visione allora io sono sempre molto fiducioso nell'essere umano e credo che il futuro sia sempre meglio del presente o del passato cioè se noi andiamo a vedere tutti i dati storici man mano che noi andiamo avanti viviamo di più viviamo meglio abbiamo più strumenti tecnologici in grado di salvarci la vita quindi in realtà guerra a parte noi andremo verso un futuro sempre più roseo e longevo il punto è dovremo capire cosa fare della nostra vita cioè ok vivere 120 anni 130 140 che sarà probabilmente possibile ma come vogliamo vivere la nostra esistenza quali sono i nostri obiettivi cos'è che ci fa scaldare il cuore secondo me queste cose sono tutte facilmente raggiungibili vedendo il processo tecnologico di oggi con la consapevolezza attuale quindi sono sicuramente molto molto positivo verso il futuro e la tecnologia sarà la chiave di volta che renderà il nostro corpo biologico un corpo molto più resiliente e avremo una diagnostica e una prevenzione estremamente molto più precisa e sarà una diagnostica e una prevenzione casalinga un apple watch uno strumento un chip che possiamo avere nel cervello nel cuore in base a ciò che la tecnologia ci porterà insomma io sono molto molto fan e non credo che ci siano problematiche di salute da questi processi tecnologici eccetera o perlomeno i problemi saranno sempre inferiori rispetto ai vantaggi che ne terremo quindi io vedo questo il punto è che saremo probabilmente individui longevi sempre più energici sempre migliori dal punto di vista del corpo ma quello su cui io ho dei dubbi è la nostra mente la nostra intelligenza emotiva nel gestire gli eventi nel gestire comunque sia una vita che sarà sicuramente più dinamica perché ad esempio i lavori possono cambiare c'è una dinamicità a livello globale molto più rilevante rispetto ai nostri nonni e quindi dobbiamo essere degli individui con un mindset appunto dinamico in grado di adattarsi all'ambiente che cambia ma cambia in maniera molto drastica radicale e rapida un po' come gli animali chi è che riesce a non estinguersi l'animale che si adatta meglio al cambiamento climatico chi si adatta peggio ed è lento nel farlo so come soprattutto spesso chi vince nel lungo termine non è colui che o anche nel caso degli animali colui che è iper specializzato come dicevamo prima sul essere il più veloce sull'essere il più grosso ma è che ha un po' di tutte le qualità che servono per prosperare poi nel lungo termine adattarsi adattamento sono completamente d'accordo sono un grande fan anche di quello che dicono spesso anche negli aerei in i voli del prima di mettere la mascherina all'altro metti la tu traslato la salute e prenditi cura di te stesso non solo a fini di stare meglio tu ma poi nel riuscire a saper restituire qualcosa all'ecosistema per le generazioni in futuro ne ho parlato in una puntata del mio podcast ovvero che noi dobbiamo coltivare un sano egoismo cosa vuol dire che molte volte si pensa che non dobbiamo essere egoisti no tu devi essere fottutamente egoista perché se tu sei egoista sei il primo a salvarsi da solo sei il primo a essere una persona di valore sei il primo a stare in salute eccetera poi riuscirai ad aiutare gli altri quindi se tu studi se tu conosci sarai un genitore che saprà dare degli strumenti reali al figlio quindi prima ti salvi te stesso prima crei il tuo percorso di crescita unico la tua routine vincente e prima puoi aiutare realmente gli altri se tu sei una persona che non ha un buon lavoro non è soddisfatta della propria vita non ha una buona salute non ha dei risparmi non ha una casa non ha tante cose poi come puoi essere d'aiuto all'amico che ha dei problemi sei il tu il primo non ti metti mai nelle condizioni di poter lasciare qualcosa agli altri esatto prima sopravvivi tu prima ti elevi e poi ti metti nella condizione reale di aiutare il prossimo fantastico con questo sano egoismo direi che chiudiamo qua grazie a tutti per la visione ci sentiamo nel canale di Mattia per un prossimo episodio ciao a tutti alla prossima ciao a tutti